PEGI 18 E' stato il primo attacco terroristico globale della storia. Hanno colpito le centrali nucleari di cinque continenti simultaneamente. E in un istante hanno gettato il mondo nel caos. Con il nostro governo e il nostro esercito in ginocchio, ci siamo rivolti a una compagnia militare privata, chiamata Atlas. Atlas è il più grande esercito al mondo, ma non rispondiamo a nessun paese. Hanno combattuto le nostre guerre. Hanno ricostruito le nostre città. La verità è che risultiamo spesso più efficaci degli stessi governi che ci assumono. Abbiamo dato loro un'immensa responsabilità. E con quella, un immenso potere. Noi andiamo avanti. Un'operazione su suolo straniero sarebbe considerata un atto di guerra senza il consenso del congresso. Atlas è una compagnia privata internazionale. A noi non serve il consenso del congresso. Non sono le idee a determinare chi ha ragione. Ma il potere. E io ho il potere. Quindi io ho ragione. La verità è una compagnia privata internazionale. La verità è una compagnia privata internazionale. La verità è una compagnia privata internazionale. Grazie.